Siamo qui all'Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori, oggi 8 aprile 2015, dopo le 8 di sera, dopo le 20, bellissimo posto sopra Varese e vedremo le stelle stasera. Eccoci sulla strada per l'Osservatorio Astronomico, lì per le telecomunicazioni e di là l'Osservatorio Astronomico, ecco che si vede la guglia dell'Osservatorio. La città di Varese e l'Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori sopra Varese, con stella Porta Fortuna. Erro, vedremo le stelle. che bello di ritorno dall'osservatorio astronomico 8 aprile 2015 Varese, Monte Campo dei Fiori Varese, Monte Campo dei Fiori